Ciao, buongiorno, eccoci per un nuovo video. Oggi è domenica 5 maggio 2024 e siamo praticamente a leggere gli ultimi interventi che ancora non ho messo in video. Come sapete sono abituato a mettere in video tutto quello che scrivo più o meno. Ci eravamo lasciati con l'ultimo post che avevo messo il 25 aprile e riprendiamo dal 25 aprile, perché quel giorno ne ho fatto un altro che riguarda un mio invito. Sono stato invitato in un podcast dove praticamente ho discusso con un paio di persone, un gruppo libertario. Il podcast dice questo, l'intervento dice questo è il podcast di una serata in cui sono stato invitato a parlare da un gruppo libertario che ha trovato interessante un mio articolo, anche se non condivisibile ovviamente. pur nelle rispettive predibili divergenze la discussione è stata civilissima e di questi tempi è già tanto. Io, lo dico subito, non mi trovo con le posizioni di questi, che poi un gruppo libertario, sì, di quei libertari loro si definiscono anarcho-capitalisti che vanno un po' che sono sorti ormai da pochi decenni, come una deriva, secondo me una deriva un po' del pensiero libertario classico con innesti particolari di individualismo, insomma, sono un po' discutibili. Comunque veramente è stato civilissimo e quando andrete, ovviamente in questo video, il primo, come sempre, la prima informazione che vi metto nelle informazioni del video è il link a questo, è l'articolo dove tutti questi interventi sono appunto messi, inseriti e se andrete a vedere c'è, eccolo qui, vedete questo è l'intervento del 25 aprile e ci sono i due link, quindi questo è il mio articolo che li ha ispirati a chiamarmi, il vero problema è il dissenso dei nostri tempi, non è complottismo ma l'antipolitica, questo dove c'aveva già un'immagine con Grillo fotomontato sull'effigie dell'eroe del film 300, poi Mani Pulite e qui al centro c'è un insieme di antipolitica, c'è questo qui che è un personaggio abbastanza folcloristico che aveva invaso la casa bianca, no? E poi questo invece è l'articolo, la pubblicazione del podcast, vedete qui c'è il play, potrete andare ad ascoltare se vi va questo mio, insomma questo dibattito, due ore e zero otto minuti, vabbè, auguri, però diciamo che è interessante ed emblematico, e quindi questo era il primo post, andiamo al 26 aprile, giorno dopo, gli influencer del dissenso parlano continuamente contro il neoliberismo, questa è una riflessione che va, insomma, ad assommarsi alle altre centinaia sul cosa impedisce una politica alternativa, quindi gli influencer del dissenso parlano continuamente contro il neoliberismo, ma in un incoerente tripudio di canali informativi, personali e personalistici da fare invidia al periodo in cui esplosero le tv private. Certo, l'agenda globale ha bisogno di essere seguita passo passo per mantenere i like pro sopravvivenza, ma senza spostare troppo l'analisi dal breve periodo e soprattutto, come accade per la politica, senza ricercare quella capacità di parlare a tutto il paese in modo nuovo e non divisivo, no? Perché questo è quello che c'è bisogno e invece tutti questo tripudio di canali di informazione dell'area del dissenso, quindi frammentati, segmentati e sparsi mille video, non fanno altro che seguire l'agenda, no? In politica vige l'antipolitica e la mancanza di statisti, nel giornalismo vige l'antigiornalismo e la mancanza di penne influenti, no? Questa è la mia veloce sintesi di tutto. Andiamo al 27 aprile e qui parlo un attimo di tutti i video che abbiamo visto, sia relativi all'Occidente ma anche in Medio Oriente. Insomma, ascoltate che ci parlano di una cosa vecchia in effetti, non nuova, ma che oggi sicuramente acquisisce una nuova valenza e una nuova, e su cui vanno fatte le nuove riflessioni. La violenza della polizia non è certo una cosa nuova, ma un tempo le reciproche cariche erano comunque il segno di una conflittualità organizzata, giusta o sbagliata che fosse. Oggi i video da tutto il mondo ci mostrano un'evoluzione in cui è il singolo ad essere preso di mira di qualsiasi età e professione, energumeni robusti e tatuati con l'aria criminale, che usano un livello di forza talmente inappropriato contro insegnanti, anziani e cameraman scomodi, anche se bianchi, o che sparano decine e decine di pallottole su un singolo digolone che non esce da un'auto, come è accaduto da poco, è stato ucciso da più di 90 pallottole, negli Stati Uniti ovviamente, o che uccidono sempre negli Stati Uniti, un altro nero che è appena andato a schiantarsi su un palo con la sua stessa auto, tipo un po' frastornata, che stava sul bar vicino e aveva disposto male a questi, l'hanno fatto fuori tranquillamente, un po' come il vecchio George Floyd, che poi ha detto inizio a tutta una serie di scontri anche discutibili. L'antipolitica imperante ci lascia ovviamente del tutto disarmati, perché è contro queste violazioni. L'occhio voglioso del cittadino telequidato dai social media assiste impotente e insensibile, cliccando il suo inutile sdegno da viziato e inerme fruitore del disastro. Come se la marea che inghiotte ogni ragione non lo riguardasse? Ci hanno già preso la dignità affogata nello spettacolo, ci hanno preso le istituzioni che non abbiamo saputo difendere, ci prenderanno anche l'anima con la ragione, tra virgolette, della forza. Andiamo al primo maggio e qui parliamo dell'eccezionalismo americano, sapete, questo concetto che sin dalla nascita, ma che poi è stato accentuato negli ultimi decenni, soprattutto da quando secondo alcuni, soprattutto uno, c'è stata la fine della storia, no? Allora questo eccezionalismo americano. Allora, in merito al cosiddetto eccezionalismo americano, alla cosiddetta nazione insostituibile nelle relazioni internazionali, due punti. Gli americani sfruttano l'idea che sia comunque necessario un ordine globale per evitare guerre e tragedie globali, no? E questo è, voglio dire, sono anche gli obiettivi dell'ONU, dei diritti umani, no? Che questo ordine però sia possibile solo con la forza e che l'Occidente, in primis loro quindi, sarebbero autorizzati a farsi carico di ciò perché più forti, comunque più democratici di altri, anche se solo in apparenza, dico io, oltre che mandati da Dio, no? Perché poi gli americani aggiungono anche questo, la retorica degli Stati Uniti aggiunge anche questo non trascurabile contenuto. Stando così le cose, per non ricadere nel solito divide timpera che rischia di appoggiare l'altra parte del mondo, no? Cioè il sud del mondo, i BRICS, la Russia, la Cina, eccetera, eccetera, senza che questa dia, questa altra parte, dia effettivamente maggiori garanzie di affidabilità democratica e antitecnocratica, occorrerebbe che proprio dall'Occidente nasca un nuovo forte impulso politico capace di indicare i problemi del presente e di rinnovare le istituzioni democratiche e liberali dalle forzature contrarie ai diritti umani, che sono anche diritti politici, applicate sui nostri impianti istituzionali e costituzionali, grazie all'assismo indotto delle società civili occidentali. Date le molteplici menzogne di ordine politico, economico, culturale, scientifico, finanziario e sociale che l'Occidente e il mondo intero hanno coltivato negli ultimi decenni un pacchetto contenente l'idea fondamentale cinica e psicomaterialistica che l'uomo sia fondamentalmente un animale incapace di etica, non si vede oggi chi possa iniziare un'impresa di tale portata. Io parlo sempre di soggetto politico-culturale, di grosso sforzo politico-culturale, di miracolo politico-culturale perché appunto non si vede chi possa iniziare un'impresa di tale portata. Purtroppo senza uno sforzo del genere il tracciato verso la tecnodistopia a me pare oggi inevitabile. Sapete che, insomma, quello che penso. Questo video andiamo al 2 maggio e il video è questo, che vi metto nel link, lo trovate nell'articolo, nel punto corrispondente al 2 maggio. Potere e Stati Uniti. Chi comanda veramente gli Stati Uniti con Giacomo Gabellini che è intervistato dalla Ibex Edizioni che sta pubblicando una serie interessante di Volumi. Quindi il video è interessante, non è neanche lunghissimo, andatelo a vedere. Quindi questo video è assai interessante a livello analitico su alcune dinamiche storiche ed attuali che non sono all'attenzione del grande pubblico, ben spiegate in modo sintetico. L'unico punto sarebbe sul fatto che la Cina, perché poi l'unico punto appunto su questa affermazione che lui fa, che la Cina, differentemente dagli Stati Uniti, non imporrebbe ai suoi partner cosa fare da un punto di vista socio-politico-economico. Se è vero come è vero che nel mondo antipolitico, perché è questo l'humus socio-culturale di tutto il mondo, che nel mondo antipolitico e materialistico dei nostri tempi è la tecnica a guidare l'uomo, non il contrario, credo sia ora di abbattere alcune barriere ideologiche ancora indulgenti verso una parte di mondo che non dà obiettivi e sicurezze in merito ai diritti umani, ma si sta configurando come l'avanguardia della tecnodistopia di controllo informazione, che sta insegnando a tutto il mondo e lo sta insegnando soprattutto dal 2020 in poi. E quindi c'è il link al video che vi ho fatto vedere. Andiamo al 3 maggio con una brevissima riflessione, insomma, che è coerente con tutto quello che dico da anni. Oggi avremo bisogno contemporaneamente di due cose. Da una parte un dissenso radicale, ragionato e umanisticamente consapevole riguardo ad ogni aspetto culturale del vivere sociale, civile ed economico, un vivere dettato da propaganda e agende che la gente riesce a non vedere perché distratta dallo spettacolo imperante. Dall'altra avremo bisogno che questo dissenso si organizzi in modo comprensibile per entrare nelle istituzioni. Purtroppo il relativismo social indotto e l'antipolitica vincono sovrani nell'oblio della responsabilità. E siamo al penultimo intervento di ieri 4 maggio. Credo che, ritorniamo sulla geopolitica anche con l'ultimo invece articolo, credo che la geopolitica globale si stia resettando, seguendo le nuove alleanze, quindi anche tutta la storia dei BRICS, le possibilità della tecnologia di controllo, perché è questo che interessa veramente a tutto il potere, considerando anche quella dei minerali necessari alla sua costruzione e dello sviluppo barra accordi sulla condizionalità delle monete. Quindi queste tre tecnologie di controllo, poi le sostanze che oggettivamente la permettono e che l'estrazione di queste sostanze è in gran parte invece appannaggio dell'altra parte del mondo rispetto a quella angloamericana e quindi no, e la condizionalità delle monete su cui sembra si stiano piano piano un po' mettendo d'accordo in Svizzera le banche centrali, tutte le banche centrali di tutto il mondo, di tutto qua. Quindi è probabile che in questo periodo di reset i governatori, tra virgolette, dei processi globali si siano implicitamente accordati per sopportare vari tipi di violazioni al diritto internazionale e altri tipi di violazioni che servono anche ad abituare il pubblico ad un'ulteriore restrizione dei diritti umani con la giustificazione di tutte le emergenze a venire. Ecco perché Netanyahu sembra godere di ancora più impunibilità della solita riserva, della solita impunibilità riservata a Israele. Tempi assai bui all'orizzonte, perché il problema è questo dei tempi assai bui all'orizzonte perché questa impunibilità è praticamente, nessuno sta sostanzialmente facendo niente, anche se è la prima volta nella storia recente che un gruppo di paesi si è unito per sganciarsi dal dollaro, dal sistema anglo-americano e questo gruppo ha grossi interessi anche nell'area medio orientale, ma sostanzialmente non sta facendo niente per fermare l'eccidio drammatico che si sta compiendo in Palestina. Sono cose che fanno riflettere. collegato a questo penultimo post c'è l'ultimo di stamattina, che praticamente sono andato a leggere un articolo condiviso su Facebook da Giuseppe Germinano che spesso condivide cose interessanti, analitiche, lunghi articoli analitici, però cose interessanti e è questo qui, lui ha condiviso questo qui, l'Italia e il mondo, un sito di controinformazione evidentemente, il conflitto strategico, le formazioni sociali, gli stati, i centri decisori, la fase multipolare, questa è la presentazione, ovviamente parla di multipolarismo e l'articolo è questo qui, è questo qui, Nato Russia perché parlare di nuova guerra fredda è un'illusione pericolosa, di Cyril Brett che non conosco, forse è la prima, se non la seconda Massimo, una volta che lo leggo, quindi parlare di nuova guerra fredda è un'illusione pericolosa, questo ci avverte che le cose possono non essere così tranquille, questo sembra andare un po' contrario, in senso contrario a quanto dico, ma relativamente dico io, comunque sono comunque dati e situazioni con cui bisogna confrontarsi, non bisogna nascondersi e io spesso dico felice di sbagliarmi, però questa, lo so perché tanto se non ci sarà una guerra nucleare però la tecnocrazia si instaura e la tecnodistovia si instaura, sono due diversi disastri enormi, uno potrebbe pensare sì è più devastante la guerra nucleare, sicuramente nell'immediato è più devastante la guerra nucleare, ma anche l'altra opportunità se ci ragioniamo bene non è che sia così, certo la violenza dell'impatto è ovvio che è comunque definitiva almeno nel medio-lungo termine, nel breve, nel medio e anche nel lungo termine quella nucleare, però come la mettiamo la mettiamo male purtroppo perché poi con questa tecnodistopia che stanno preparando, che tutte le elite globali stanno preparando, non sarà un bel appunto una tecnodistopia, poi per me sarà assai grave perché viste le caratteristiche culturali e sociali e politiche che stanno dietro renderà praticamente impossibile il risveglio della della libertà del pensiero e quindi quella sarà per certi versi una morte civile, certo appare sempre meno drammatica della morte della morte vera di milioni e milioni di persone però se non miliardi però sarà comunque la fine della libertà del pensiero che già è messo male a giorni nostri. Allora leggiamo e poi finiamo perché è l'ultimo post, oggettivamente i pericoli elencati qui ci sono, qui nell'articolo intendo, ma credo che le nuove tendenze barra tensioni si comporranno in un nuovo riassetto globale di stampo tecnocratico senza che tutto trascenda in uno scontro nucleare. L'intensità dell'emergenza guerra da sempre l'emergenza più grande ed efficace sarà decisa in ambiti purtroppo lontani dalle istituzioni visibili, ormai solo istituzioni ratificanti, ambiti cui queste sono ormai da anni soggette data la perdita di dignità e prestigio da parte della politica stessa. Ha vinto l'antipolitica e noi ne siamo soggetti e in parte corresponsabili perché tutti siamo responsabili delle nostre condizioni, quindi anche a livello civile, sociale, istituzionale e nazionale. Le cose secondo me stanno così. Bene, finivano con gli interventi, ci vediamo al prossimo video. Buona domenica. Mettete like, iscrivetevi, condividete e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!